Aumento di contagi in Sicilia. Lo si evince dal bollettino Covid diramato dalla regione. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre, infatti, la curva epidemica regionale continua ad aumentare, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incremento di nuovi casi positivi è del più 10,04%, con un valore cumulativo di 184 casi sui 100.000 abitanti. Le fasce di età maggiormente rischio risultano quelle fra i 60 e gli 89 anni. Si segnala, inoltre, un lieve aumento delle nuove ospedalizzazioni. I dati relativa alla campagna vaccinale diffusi dalla regione Sicilia, invece, fanno riferimento alla settimana che va dal 5 all'11 ottobre. Hanno effettuato la terza dose, il 72,32% degli eventi diritto. Lo scorso 13 luglio è stata avviata la vaccinazione per la quarta dose agli over 60 e agli over 12 anni con elevata fragilità. Dal 1 marzo, infine, sono state effettuate in Sicilia 126.034 somministrazioni di quarta dose, di cui 119.930 a soggetti over 60.